Una matassa tutta da dipanare si tinge di giallo la morte di Massimo Bevacqua. Il docente calabrese è trovato cadavere nella sua abitazione di Sissibu Said in Tunisia nella notte tra martedì e mercoledì. Nell'attesa che l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria tunisina chiarisca l'esatta causa della morte, secondo alcune indiscrezioni lanciate dagli organi di stampa locale, si farebbe largo l'ipotesi di una rapina finita nel sangue. Quindi il rogo ha piccato da uno o più malviventi allo scopo di cancellare quante più tracce possibili dell'omicidio. In base alle prime notizie diffuse in Tunisia, il 42enne docente di italiano all'Università di Cartagini e all'Istituto di Cultura Italiana a Tunisi sarebbe stato accoltellato. Originario di Rossano, grande conoscitore della lingua e della cultura araba, Bevacqua era un insegnante a contratto che collaborava con le università di Urbino e Roma. Grande cordoglio a Rossano dove vivevano i suoi familiari, le tre sorelle e la madre, che vedeva per pochi periodi all'anno essendo continuamente in viaggio all'estero. In Tunisia oggi c'è il fratello Cataldo che sta seguendo passo dopo passo le indagini avviate dagli investigatori locali.